ciao a tutti allora vediamo insieme il primissimo volantino lidl di questo 2021 scusate se inizio sempre il video e tossisco ma non so appena inizio a parlare mi prende la tosse stanotte mi sei infugata una cosa assurda vabbè e allora vediamo invece cosa ci propone per questo inizio anno quindi un po di sottoprezzi frotte verdura le carni mi è venuta voglia vi chiedo sempre a voi di fare già posso fare il vitelton o meglio io l'avevo fatto una volta ma non mi ricordo più come l'avevo fatto però visto che il vitello costicchia un po di più l'avevo fatto con l'arista però non mi ricordo come si fa il tonne fatemi sapere che non mi ricordo più l'avevo fatto mi sa che ci va il tonne capperi e qualcos'altro però non mi ricordo più se qualcuno di esperto di vita il tonne mi faccia sapere perché lo adoro solo che compra la confezione piccolina costa un sacco di soldi vabbè poi abbiamo le offerte del lunedì offerte del giovedì altri sottoprezzi quindi non vediamo diciamo nulla di particolare bibite ah no madonna qui siamo già carnevale cioè ancora deve finire diciamo il periodo di natalizio e già ci sono le cose di natale perfetto allora prodotti per da bagno poi gusti benessere vabbè sono un po i soliti prodotti italiamo burger vegani questa pizza l'avevo presa non è male ci sono no quelle pizze surgelate non è come la pizza normale chiaramente cioè parliamoci chiaro però non è male no ci sono quelle vi dicevo che sembrano proprio plasticose invece dai non è non è male 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 poi abbiamo un po di zuppe che cos'è zuppa con fagioli nero e risa integrale o crema con lenticchie rosse e curcuma questo mi incuriosisce ah poi non vi ho detto ho fatto perché poi danno le lenticchie col cotechino e oh sono venuto molto 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 bene vabbè della lenticchia è una cavolata ma anche il cotechino proprio mi è piaciuto e quello l'ho preso al di più perché stranamente quest'anno nella nella come si chiama nella scatola natalizia mia o di mio amoroso c'era dentro il cotechino vabbè poi pensiamo all'igiene quindi abbiamo questi spazzolini in bambù che sono praticamente identici a quelli della Lidl poi vediamo un po' qui prodotti per cucina volevo comprare una piastra elettrica però non mi convince tanto questa e vabbè abbiamo teglie forno in microonde borse termiche a compartimenti molto carina fatta così poi abbiamo la grattugia coltelli bollitori contenitori con i coperchi in bambù e va bene poi gusto e benessere per gli sportivi quindi non c'entra niente con me allora gelato proteico crema alla proteine cos'è pasta proteica wow allora è tipo food spring adesso stavo aspettando su food spring che uscissero delle novità speravo in qualcosa a livello di pasta però questa sarebbe interessante da provare perché quella della food spring ci piace molto è ad alto altissimo contenuto proteico e si digerisce anche molto bene e quindi mi interesserebbe provare poi abbiamo un po' di cose da palestra attrezzo multifunzione un peso kitbell kitbell non so come si pronuncia la balance board cuffiette borracce le fasce lassiche vedete ci servivano ma non possiamo muoverci nessuno di due perché volevo ordinare su amazon ma costano di più mi servivano con tappetino poi abbiamo abbigliamento chiaramente sportivo un po' di piantine per il pollice verde e vabbè telefono roba da bagno spazzolini no perché mi è dato su altre cose da bagno qualcosa di intimo sia per uomo che per donna qualcosa anche per i bambini poi abbigliamento uomo e donna in stile casual questi pantaloni sono carini da uomo non riesco a capire se sono fatti in tuta fatemi sapere voi che cosa ne pensate se fatti proprio a tuta oppure quel jeans elasticizzato non si capisce molto bene e non c'è neanche scritto però sono carini con questa maglietta sfumata a me ad esempio piace vi ci vediamo da donna cosa abbiamo soliti leggings magliette nulla di che ma meno non di mio gusto e poi abbiamo le super offerte del weekend e direi un volantino Lidl primo un po' smortino non c'è nulla di chissà di chissà cosa insomma e niente ditemi cosa ne pensate se per caso avete visto qualcosa di interessante ma dubito a meno che non siete dei fanatici dello sport allora c'è qualcosina di particolare se no il resto è un volantino molto molto basic e confidiamo nel prossimo anche perché comunque se trovavo qualcosa di interessante non potevo andare niente questo è tutto ci vediamo presto ciao ciao